Ragazzi ci godiamo la fine di questa finale, il Bayern Monaco sta conducendo, mancano ormai due minuti al termine della gara Bayern che sta per aggiudicarsi il doppio triplete, ha un risultato assolutamente straordinario, andrebbe a eguagliare il Barcellone in questa speciale classifica e che dire, siamo su una punizione al limite dell'aria da parte del Bayern, ha appena avuto un'occasione Neymar importante ma che dire ragazzi recupera intanto la palla il PSG con Mbappé che parta a 300 all'ora, serve il pallone per Neymar, una delle ultime occasioni questa, bisogna buttarlo giù Neymar Attenzione, attenzione! Niente, niente da fare, niente da fare ragazzi, il Bayern in tutti i modi chiude le possibilità e di questo, delle sfuriate del PSG, intanto ha munito Müller, manca un minuto ragazzi al termine della gara che dire, l'organizzazione, l'organizzazione del Bayern ha portato alla vittoria la squadra tedesca a mio giudizio il gioco del Bayern è stato determinante poi per determinare il risultato finale, un centrocampo quello del Bayern formato da Thiago, regista assoluto di questa squadra, un giocatore veramente molto forte, poi soprattutto da Goretzka che a me è sinceramente un calciatore che piace tantissimo, tutto campista in grado di fare qualsiasi cosa grandissima tenuta fisica, tecnicamente comunque un ottimo giocatore, incontrista, serve bene i palloni mi piace veramente da morire questo calciatore, siamo intanto a 20 secondi dalla fine della finale ormai direi che i giochi sono fatti, il PSG ha avuto problemi grossi dal punto di vista del gioco a mio giudizio del gioco specialmente a centrocampo e le figure, centrocampo soprattutto titolare formato da Paredes, Marchinhos Herrera non ha e non ha avuto la qualità sufficiente per poter creare un dominio a centrocampo totalmente il contrario rispetto al Bayern di Monaco, sta per terminare la gara ragazzi sta per terminare la gara fine ragazzi, Orsato dichiara il triplice fischio finale Lewandowski a terra e apoteosi, Bayern di Monaco ragazzi, doppio triplete per il Bayern di Monaco Neymar piange ma ha provato, ha fatto tutto quello che ha potuto ma soprattutto nell'ultima fase, nell'ultima parte del secondo tempo si vedeva un Nermar nervoso che non riusciva più a farle giocate devo dire anche abbastanza sofferente dal fatto che molto probabilmente vedeva la squadra non riuscire a servire adeguatamente, a supportare l'attacco bellissimo, bellissima immagine di Neymar con Alaba che dire, anche Tiago Silva, grandissima partita la sua che dire, il PSG cade, cade contro questo Bayern Monaco questa macchina perfetta che ha dato modo, possiamo dirlo, al PSG di avere delle occasioni, occasioni anche importanti nel secondo tempo quella di Marchinhos per esempio su un'ennesima meravigliosa invenzione di Angel Di Maria ma Neymar è stato sempre pronto, sappiamo benissimo essere uno dei portieri più forti al mondo e l'ha dato dimostrazione grandissima, tra l'altro la sua esperienza ricordiamo, noi ragazzi ha vinto un mondiale ha vinto un campionato europeo due tripleti, cioè cosa vogliamo dire di questo giocatore il Bayern di Monaco squadra che con la vittoria di questa sera diventa assolutamente eccezionale a livello storico 20 coppe nazionali 30 campionati 6 Champions League con due tripleti annessi che cosa dire di questa squadra? squadra che si sta dimostrando e vuole a tutti i costi essere rimembrata tra le squadre più forti della storia del calcio e ci sta riuscendo felicissimo per Lewandowski che vince la sua prima Champions League assolutamente la protagonista nonostante questa sera ha giocato, ha lottato, ha fatto tanto gli è mancato solamente il gol che dire, il PSG ci ha provato i complimenti comunque vanno fatti alla squadra parigina ma c'è stato poco da fare ha inquadrato ancora Coman suo il gol che va a regalare questo triplete al Bayern di Monaco il Bayern di Monaco che vince tutte le partite pensate che ha disputato in questa Champions League facendo un record una squadra veramente formidabile questa nettamente la squadra più convincente di questa stagione peccato per il discorso pallone d'oro perché a mio giudizio sarebbe andato a mani basse quest'anno a Lewandowski si sta preparando intanto la premiazione grande assente dal mio punto di vista questa sera Kylian Mbappé, il predestinato quello che ha già vinto un mondiale giovanissimo questa sera non è bastato intanto lacrime e un pianto fragoroso di Neymar a cui vanno comunque fatti i complimenti che ha provato, ha fatto di tutto ha portato fino in finale questa squadra con prestazioni di altissimo livello questa sera la squadra non è riuscita a supportare degnamente lui e lo stesso Mbappé è tornato da un infortunio non ha brillato che dire il Bayern di Monaco scrive quindi la storia tanti calciatori che vincono per la prima volta il triplete tanti calciatori come vi ho detto nel video che ho fatto oggi pomeriggio vi invito ad andare a seguire o che vanno ad aggiudicarsi il doppio triplete risultato assolutamente storico ad ora il Bayern di Monaco raggiunge come Champions League il Liverpool e sia Liverpool che Bayern di Monaco vanno a marcare strettamente il Milan a 7 Champions League non c'è niente da dire ragazzi vittoria strameritata l'esperienza l'organizzazione soprattutto va a vincere un PSG che si vedeva essere avere poche idee in campo è una squadra che è riuscita ad arrivare in finale grazie soprattutto ai fenomeni che aveva davanti i calciatori di livello assolutamente mondiale ma che poi alla prova del 9 ha mostrato quelli che erano i suoi punti i suoi limiti diciamo punti deboli invece che ritenevo esserci nel Bayern di Monaco in sul che invece è riuscito degnamente molto bene a gareggiare appunto nel secondo tempo che era invece il terzino destro del 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 PSG con una sua possiamo dire possiamo dire piccola leggerezza comunque con la sua disattenzione ha regalato il gol partita a Coman tra poco la premiazione Bayern di Monaco vince la Champions League Bayern di Monaco vince il secondo triplette si porta a 6 Champions League una stagione assolutamente straordinaria quella del Bayern di Monaco complimenti vanno dati sicuramente la coppia difensiva soprattutto in Alaba che si è ritrovato da terzino a giocare centrale di difesa in una maniera assolutamente degna Alfonso Davis ragazzi questo ragazzo che ha debuttato in Bundesliga quest'anno ha fatto una stagione straordinaria è uscito fuori anche questa sera comunque degnamente ha ha giocato veramente bene stesso Chimice un calciatore dotato di grandissima tecnica spinta offensiva un calciatore il degno erede di Lame in questo Bayern di Monaco poi Bayern di Monaco che ragazzi ha una panchina esagerata diciamoci la verità entrano Perisic Coutinho e Tolisso voglio voglio dirvi che questa squadra il Bayern di Monaco è una squadra che è stata costruita pensate voi con meno o con più diciamo all'incirca 100 milioni di euro guardate i risultati che ha portato a fronte invece di un PSG che nel solo Neymar è stato pagato Neymar appunto 222 milioni di euro questo è a dimostrazione che è l'organizzazione che poi l'organizzazione la pianificazione la programmazione sportiva che poi porta a grandissimi risultati ancora lacrime per Neymar ma non ce n'è stato niente da fare il PSG ha avuto le sue occasioni non è riuscito a sfruttarle grazie a una grandissima ripeto l'organizzazione del Bayern di Monaco un grandissimo portiere che è appunto Emmanuel Neuer ditemi che cosa ne pensate chiudo qua questa analisi per quanto riguarda la finale di Champions una partita comunque molto bella vivace mi è piaciuta particolarmente lasciate un bel like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale mi raccomando cresciamo insieme e ciao a tutti ragazzi bellissima finale Bayern di Monaco campione d'Europa